preghiere mariane per ogni giorno del mese di maggio maria scalda i nostri cuori nel nome del padre del figlio e dello spirito santo ame o nostra signora unica speranza noi ti supplichiamo illumina le nostre menti con lo splendore della tua grazia purifica le nostre anime con il candore della tua purezza riscalda i nostri cuori con il calore della tua visita la medicina della tua misericordia guarirà le ferite del peccato così potremmo giungere alla gloria della festa eterna con l'aiuto di colui che volle nascere da te o vergine gloriosa a lui onore e gloria per i secoli eterni o maria madre e signora mia affido a te la mia anima e il mio corpo la mia vita e la mia morte e ciò che verrà dopo metto tutto nelle tue mani o madre mia copri con il tuo manto virginale la mia anima e concedimi la grazia della purezza del cuore dell'anima e del corpo e difendimi con la tua protezione da tutti i nemici o splendido giglio tu sei il mio specchio o madre mia amen promettiamo di impegnarci ad esercitare la pazienza la sopportazione la dolcezza il sorriso e tutte quelle belle doti che il signore ci chiede di avere con il nostro prossimo anche se è noioso scortese e poco simpatico amen padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male amen recitiamo tre ave maria per la fede la speranza e la carità ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen salve regina madre di misericordia misericordia vita dolcezza vita dolcezza speranza nostra salve a te ricorriamo noi esuli figli di eva a te sospiriamo gementi e piangenti e piangenti in questa valle di lacrime or su dunque avvocata nostra rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio gesù il frutto benedetto del tuo seno o clemente o pia o dolce vergine maria che dio ci benedica faccia risplendere il suo volto su di noi e ci dia la pace nel nome del padre del figlio e dello spirito santo ame amin grazie 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 grazie